Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi è dedicata all'avvertenza Gera, incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, oggi presente il sindaco Domenico Messinese e il suo vice Simone Siciliano, si cercano soluzioni immediate per far fronte alla grave crisi che attanaglia i lavoratori dell'indotto che protestano da quattro giorni e da tre notti per la chiusura della raffineria e la mancata riconversione in green refinery. L'avvertenza Enigela si sposta al Ministero dello Sviluppo Economico, il sindaco Domenico Messinese ed il suo vice Simone Siciliano incontrano oggi i vertici del Dicastero per trovare una soluzione concreta al dramma che stanno vivendo gli operai dell'indotto che da quattro giorni e tre notti si trovano sulle strade di accesso alla città, direzione Catania e Licata per protestare contro la chiusura della raffineria e la mancata riconversione in green refinery, così come si è annunciato dal protocollo d'intesa del 6 novembre del 2014. L'incontro di oggi verte sull'accordo di programma, che la gestione ha deciso di dare un'accelerata e ha richiesto con urgenza il tavolo di coordinamento affinché all'interno dell'arunione di oggi il tavolo di coordinamento costituito dai quattro ministeri fondamentali della regione e dal comune di Gela esprimessero e verbalizzassero quali sono le strategie che il governo centrale deve attuare sul territorio. Il nostro indirizzo è stato espresso in maniera molto chiara all'interno della bozza dell'accordo di programma, sono passati più di quattro mesi per cui tutti gli attori hanno avuto modo di valutarla attentamente, di capire qual è il percorso programmatico che l'amministrazione ha voluto indicare in un processo di concertazione con il territorio ed è chiaro che oggi ci aspettiamo che il gruppo di coordinamento stabilisca, francesca quali sono le strategie da attuare a Gela per fuorescire da questa crisi in mare. Dal tavolo del confronto l'amministrazione comunale vuole risposte certe e immediate, non si può più assistere, bisogna concretizzare in gioco, c'è la sopravvivenza di un'intera collettività. Noi abbiamo deciso di puntare in maniera sommaria, giusto per semplificare, su una delle caratteristiche principali che ha il territorio genese che è l'affascio sul Mediterraneo. Nell'ottica del nuovo decreto ministeriale di riorganizzazione dei porti, l'intenzione dell'amministrazione è quella che Gela diventi l'appendice della nuova infrastruttura portuale che vede raggruppare Catania ed Augusta. Quindi c'è la necessità di avere un'affaccia al mare, un hub sul Mediterraneo, più volte sollecitata alla comunità europea. L'amministrazione vuole che Gela giochi un ruolo fondamentale all'interno di queste scelte. L'altro punto importante è il polo energetico che si dovrebbe insediare dentro la raffineria, con questa nuova struttura di raffineria green, che per noi non è sufficiente, non è risolutivo. Quindi abbiamo deciso di puntare su un hub energetico green totalmente rinomabile, che possa impiegare le fonti alternative ai combustibili fossili, secondo le direttive europee. Quindi puntare molto sul metano, una risorsa che già all'interno della raffineria esiste, con il gas stream, e sulla bioraffinazione di terza generazione. Abbiamo già notizie di partner esteri che potrebbero essere interessati ad avere un hub energetico ibrido, e quindi vogliamo che il governo esprima la sua intenzione di puntare su Gela per l'hub energetico. I blocchi di una città bloccata da una crisi senza precedenti, i blocchi di una città tradita, illusa ed abbandonata da una politica becela che ha saputo solo autoalimentarsi attraverso i drammi di una popolazione vessata oltre ogni limite ed immaginazione. I blocchi di una città disperata e che ogni giorno perde sempre più l'unica possibilità di salvezza, ossia la speranza. Dei blocchi inscenati dai oramai ex lavoratori dell'indotto si parlerà questa sera ad Agorà, ma non solo. Il rotocalco settimanale di Canale 10, ideato e condotto da Franco Gallo, si trarrà in contatto con Roma, dove oggi, l'abbiamo appena sentito dalla servizio, è in programma l'atteso incontro al Mise per decidere il futuro di questo territorio. Cosa che invece non si è decisa ieri a Palermo, dove un incontro analogo è andato in scena tra l'immobilismo generale di una regione siciliana guidata da un gelese, ma che per Gela non trova nessuna soluzione concreta. Appuntamento dunque a questa sera alle 21 con una nuova interessante puntata di Agorà. E lo dicevamo, ieri c'è stato un incontro con il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, insoddisfatti i sindacati. E oggi a Gela è arrivato il segretario nazionale della Filtem Cigelle, Emilio Miceli. Rammarico per certi versi ancora più preoccupazioni per i concetti espressi dal governo regionale in merito alla situazione dello stabilimento Eni di Gela e quanto sostengono Cigelle e Cisle Will dopo l'incontro avuto ieri con il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta. Il presidente, dicono i sindacalisti, ha affermato che comprende le ragioni dei presidi e nel frattempo dichiara che dipende tutto dal governo nazionale e nel merito dal Ministero del Lavoro. Incredibile, ma vero, tutto questo accade mentre la tensione a Gela non ha precedenti e nella giornata del comunicato congiunto con i sindaci e gli operatori economici. Abbiamo perso sei ore per ascoltare dal governo regionale che non ha nessun potere per intervenire per l'attuazione del protocollo e c'è un rimbalzo di competenze e responsabilità politiche sul governo nazionale. Noi non ci aspettavamo il miracolo sicuramente dal governo regionale, ma sicuramente non ci aspettavamo l'abbandono di una responsabilità che invece è certa e vi è una volontà politica di lasciare le mani libere a Leni e questo mortifica i lavoratori che sono in strada e i cittadini di Gela che stanno con la speranza di vivere in una città diversa e migliore. I sindacati annunciano che la protesta continua ed in modo chiaro rivendichiamo il diritto di avere una data dal governo Renzi per affrontare e definire il presente di un'intera popolazione e con essa da oggi le popolazioni dei comuni limitrofi. Intanto oggi a Gela è giunto il segretario nazionale dei chimici della CGL Emilio Miceri. Crediamo che il governo nazionale e il governo regionale debbano su questo punto provare ad agganciare non soltanto la possibilità di far andare avanti il protocollo e di fare gli investimenti di cui Gela ha bisogno ma innanzitutto di dare una risposta alla tensione sociale che c'è. Gela è una di quelle città che sta vivendo una fase di impoverimento impressionante e non si può stare lì a guardare e immaginare che la vita scorra un po' come prima. Bisogna che ci sia un intervento da subito dal governo, c'è bisogno che l'ENI capisca che gli investimenti che aveva promesso deve farli perché se l'ENI non farà gli investimenti condannerà questa città alla morte certa. La politica si assuma le responsabilità dando al territorio risposte concrete attraverso strumenti straordinari e derogatori ad ogni legge ribadiscono le sigle sindacali. La politica sappia che ogni giorno è un danno in più al mondo del lavoro e ad un'intera popolazione. L'ENI anticipi i cantieri così da dare occupazione a centinaia di lavoratori. Riteniamo che l'ENI deve accelerare in tempi brevi gli investimenti e che il governo nazionale prenda in mano questa situazione affinché ci dia quel contributo per fare un bolo green che permette nel proseguo di questa partita ci permette di poter avere un respiro occupazionale e un'industrializzazione che sta avvenendo a meno in questo momento. Insoddisfazione per quanto avvenuto ieri a Palermo è stata manifestata anche dall'UGL intanto oggi a Gela direttivo straordinario della FIM CISL con la presenza del segretario nazionale generale. Siamo fortemente preoccupati per il futuro di Gela. Il numero uno della regione Sicilia, Rosario Crocetta, durante il vertice di ieri ha dichiarato che tutto dipenda dal governo nazionale. L'UGL è invece convinta che dipenda tutto da noi, da Crocetta, presidente della regione Sicilia, dall'ENI fino a noi sindacalisti, tutti i firmatari di quel protocollo della 6 novembre del 2014. Siamo responsabili allo stesso modo del futuro di centinaia di lavoratori di questa raffineria. È nostro compito lavorare insieme e sentire nostra lavertenza. Lo dice Andrea Alario, segretario provinciale UGL Chimici di Gela al termine del vertice di ieri presso la regione Sicilia a cui hanno partecipato le organizzazioni sindacali e le istituzioni locali. L'ENI dal canto suo, attraverso una nota stampa, ha ripetito che in riferimento allo stato di attuazione del protocollo di Gela del 6 novembre del 2014, gli impegni presi sono stati rispettati e le attività procedono in linea con quanto previsto. A noi, dice Alario, non sembra così, quindi è giunto il momento che alle parole seguono i fatti. I vertici ENI, dice il sindacalista, concretizzino nei tempi stabiliti tutti i cantieri presenti nel protocollo solleciti nell'avvio dei lavori di riconversione della raffineria ENI, effettuino la bonifica dal territorio e soprattutto la ripresa occupazionale. L'unica prova concreta fino ad oggi del loro lavoro è stato solo l'allontanamento del personale. Nelle prossime ore seguiranno nuovi incontri presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per affrontare invece la questione degli ammortizzatori sociali e dare quindi sostegno ai lavoratori dell'indotto che già da un mese non percepiscono un centesimo. Seguiremo con attenzione questa vertenza che, ripeto, dice Alario, non riguarda solo il futuro della raffineria ma l'economia di Gela. Intanto oggi a Gela è giunto il segretario nazionale generale della FIM CISL, Marco Bentivogli. Siamo qui oggi per dimostrare la nostra vicinanza ai lavoratori di Gela. Siamo a fianco, sono 800 metalmeccanici che sono in mezzo alla strada dopo la chiusura della raffineria e noi pensiamo che sia l'occasione perché il Governo confermi i propri impegni, la Regione conceda le autorizzazioni il prima possibile e Eni, come ha fatto, soprattutto confermi il suo piano di riconversione della raffineria. È importante che non ci siano rimpalli, è importante che questi lavoratori sia riconsegnata la speranza che meritano. Sono persone che non vogliono assistenzialismo ma vogliono che sia ripristinata la loro condizione occupazionale. Cambiamo decisamente argomento. Sono aperte le iscrizioni all'Istituto Tecnico Luigi Sturzo di Gela, diretto da Grazio Di Bartolo, settore economico ed alberghiero. Per informazioni rivolgersi direttamente al personale della segreteria in via Ettore Romagnoli dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ed il martedì dalle 15 alle 18. Legalità e sicurezza proseguono a Gela gli incontri tra i carabinieri e gli studenti. Oggi appuntamento nell'auditorium dell'Istituto Ettore Majorana di Piano Notaro, diretto da Mirella Di Silvestre. L'incontro è stato organizzato dal docente Rosario Tornetta e rientra nel protocollo d'intesa tra l'arma dei carabinieri ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla Formazione della Cultura, della Legalità. Ogni anno facciamo questa manifestazione. Questo è il secondo anno che ci viene a trovare il Maggiore Mar. Siamo soddisfatti per quello che lui riesce a dare ai ragazzi e per quello che riescono a percepire loro stessi. Questo incontro è importantissimo perché praticamente ci dà la possibilità a tutti i ragazzi di capire qual è il ruolo fondamentale che l'arma dei carabinieri ha nel territorio. Noi nella scuola pratichiamo sempre la legalità. Questo è il nostro goal, cioè i nostri obiettivi che giornalmente perseguiamo. Gli incontri proseguiranno nei prossimi giorni in altre scuole del territorio. Oggi siamo qui all'Istituto Superiore Ettore Majorana per un'importante conferenza di fronte a 400 studenti della scuola secondaria di secondo grado. Argomenti importanti ma soprattutto di stretta attualità che riguardano i giovani di età compresa 18, 19, 20 anni. 18 anni è un'età importante. Cerchiamo di far comprendere ai ragazzi il ruolo, i compiti dell'arma dei carabinieri nella tutela, nel controllo del territorio ma soprattutto a salvaguardia dei ragazzi perché si possono divertire, possono studiare, possono anche molti di loro lavorare in assoluta serenità ma con grande rispetto delle leggi. Oltre ovviamente alla consapevolezza che è importante e soprattutto rispettare i regolamenti ma rispettare la libertà dell'altro. Katia Tuccio e Fabiola Comandatore che vediamo nelle foto sono state elette rispettivamente presidente e responsabile della comunicazione e del comitato femminile della pubblica assistenza Procivis di Gela. L'assemblea elettiva si è svolta ieri. Katia Tuccio e Fabiola Comandatore hanno iniziato la loro attività all'interno della pubblica assistenza Procivis come volontari e subito dopo da soccorritori. Un percorso formativo importante dove entrambe hanno maturato un'esperienza importante nella sociale a fianco della collettività. Si svolgerà mercoledì 27 gennaio alle 10.30 nell'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo di Gela la presentazione del libro Verginità Rapite di Ismele Selmanai Leba. L'incontro rientra nelle manifestazioni promosse in occasione del giorno della memoria. Un impegno per il futuro, costruire un cammino senza crimini. I saluti iniziali saranno affidati ai presidenti del club service e al dirigente scolastico Grazio Di Bartolo. Modererà i lavori Fabiola Polara. Saranno presenti l'editore del libro Salavo Bonferraro e l'autrice. La lettura dei brani e l'esecuzione con il violino è a cura degli alunni della seconda B del liceo Eschilo di Gela. Saranno esposte opere di Michele Alba e Benedetta Caccamo. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Eccoci, seconda parte del telegiornale. Si terrà domani alle 10.30 all'inaugurazione della nuova sede di Casa Artigiani del Golfo di Gela, preseduta da Antonio Ruvio. I locali sorgono in via Ettore Romagnoli al Civico 60. La luce del tramonto è la prima opera letteraria dell'amico Antonio Maria Calafiore per Giuseppe Maimone, editore. Ti chiedo subito Antonio, perché la luce del tramonto? La luce del tramonto per l'intreccio del romanzo è quella luce molto particolare che ogni tramonto riesce a sviluppare e che tu non riesci a vedere perché a volte è così veloce che viene subito ingoiata dalla oscurità. Però questa stessa luce, se riusciamo a girarci un attimo indietro, la troviamo sorgere in un altro mondo. Quindi è una luce continua e perpetua ma è, ripeto, così veloce che tu non riesci a vedere. In questo caso la luce del tramonto è la luce o il tramonto di un personaggio che in questa luce cerca la sua speranza. Una storia contorza, una storia che però fa riferimento anche agli anni bui che Gela ha vissuto. Ci riferiamo alla fine degli anni Ottanta, inizio agli anni Novanta. E tu, allora, te le Gela Color, hai seguito questi particolari momenti? Sì, li ho seguiti e molti li ricordo ancora, con molto rammarico e con molto... Però in questo racconto qua, più che Gela, ho descritto una Sicilia. Una Sicilia intesa come paese, un grande paese, una Sicilia che vive la sua quotidianità nelle tradizioni, nella cultura. E in queste tradizioni, purtroppo, esiste anche la mafia. E allora ho creato questo personaggio che un giorno, attraverso uno specchio, comincia a vedere i suoi fantasmi. Fantasmi che, in un certo modo, gli chiedono anche conto e ragione di quello che ha fatto durante la sua vita. E di questi fantasmi lui, più che averne paura, ne ha quasi vergogna. E quindi, la luce che dicevamo prima, cerca un riscatto, in un modo descritto molto particolareggiato, perché attraverso questo specchio, dove il vapore acqueo che impregna tutto lo specchio, comincia a fargli vedere figure, immagini, percorsi molto particolari, ripeto, di cui ne ha vergogna e di cui cerca o trova il suo riscatto. E dopo la luce del tramonto, cos'è? Vedremo un'alba di speranza? Questo è l'augurio? Sì, perché i fantasmi, appunto, chiedono ragione. Lui lo trova e dà, soprattutto, questa speranza. Perché il gelese, ma non soltanto il gelese, dovrebbe acquistare la luce del tramonto di Antonio Garafiore? Perché credo che la storia sia interessante. È interessante come tutte quelle storie che parlano di quotidianità. Sono aperte le iscrizioni per far parte della associazione di volontariato Santa Lucia Soccorso di Gela. Per informazioni, rivolgersi in segreteria in via Ettore Romagnoli 78. C'è anche un recapito telefonico 349-78-99796, lo ripetiamo, 349-78-99796. Cambiamo argomento. L'atletica leggera a scuola è l'obiettivo che si è previstata alla dirigenza dell'Istituto Scolastico Gela Butera. Un progetto per avviare i propri alunni all'atletica leggera. È l'obiettivo che intende realizzare l'Istituto Comprensivo Gela e Butera, scuola secondaria di primo grado Enrico Mattei, diretto da Agata Quelli. La scuola affilerà alla FIDA, la Federazione Italiana Atletica Leggera, il proprio centro sportivo Mattei Sport come soddorizio per la partecipazione ai campionati federali. Dalla prossima settimana la scuola Medi Enrico Mattei inizierà tutto un progetto legato all'atletica leggera. Non che non sia stata fatta negli anni precedenti, però quest'anno c'è una novità in più, in quanto i nostri ragazzi parteciperanno a delle fasi agonistiche, provinciali, regionali e speriamo anche nazionali. Tutto questo nasce dall'impulso di un professore di educazione fisica, il professore Di Vara, che credo sia abbastanza conosciuto nell'ambito del territorio gelese, che crede in maniera straordinaria, come del resto tutta la scuola e la mia dirigenza, all'attività motoria che è un volano straordinario perché i nostri ragazzi possano crescere consapevoli di essere cittadini che debbano rispettare delle regole. Peppe Di Vara, docente di atletica leggera e coordinatore del progetto. Siamo l'unica realtà nel meridione da Roma in giù che crede nell'atletica leggera e soprattutto riesce a portare la scuola. Noi abbiamo una moria di talenti che non riusciamo più a reclutare, per cui come tecnico, ma adesso anche come docente di questo istituto, siamo riusciti, grazie alla sensibilità della dirigente, a portare avanti questo progetto, che è l'atletica leggera nella scuola, quindi fare attività sportiva, insegnare le regole tramite lo sport e cominciare anche a coalizzarci, a relazionarci con chi fa l'atletica sul serio, quindi con chi la fa a livello agonistico. Partiremo già fin da subito con la seconda fase dei campionati di corsa campestre che si terranno a Piazza Ermerina e da lì poi uscirà fuori tutto il programma primaverile, quindi da aprile in poi ci saranno le gare su pista e là avremo la possibilità di partecipare molti ragazzi in tutte le discipline, dagli ostacoli alla velocità, alla resistenza, ai salti e ai lanci, soprattutto anche ai lanci. Quindi una specialità per tutti e non solo per chi sa solo correre o chi sa solo saltare. Quindi l'atletica è la regina degli sport e quindi perché non a scuola? La scuola Enrico Mattei opera al centro della città di Gela, dove ragazzi non hanno spazi a disposizione per l'attività sportiva. L'intento dunque è realizzare un centro dove possono avere un riferimento certo per l'aggregazione e la crescita umana e sportiva. Proseguono gli appuntamenti musicali inseriti nel cartellone dell'82esima stagione concertistica gelese promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. Domenica 24 gennaio alle 19 nei locali del Palazzo Principessa Pignatelli è previsto il resital del pianista Dario Forturello. E il Ponte delle Spie, il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Machitella a Gela. Sono due gli orari, 18 e 21 e 30. E il Consiglio d'Egitto invece all'appuntamento teatrale, che si darà all'Eschilo di Gela per domani alle 17.15 e alle 21.15. Sul palco è Enrico Guarneri per la regia di Guglielmo Ferro. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie. 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 Grazie.